Battle Royale Avete gas in appiccinamento Andate alla zona sicura Occhio in appiccino Bene, Jet Diamoci da fare Versaglio taglia disponibile Diamoci da fare Dato nemico in arrivo Dato nemico in appiccino Dato nemico in appiccino Ostile in discesa nell'area Occhio in alto Dato nemico in appiccino Dato nemico in appiccino Dato nemico in appiccino Sto subendo il fuoco nemico Dato nemico in appiccino Spostamento della zona sicura Dieci rimasti Ci sei quasi Dato nemico in appiccino Prezzi delle stazioni di acquisto Ritoccati UAP nemico in appiccino UAP nemico in appiccino Volo Dato nemico in appiccino 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 Restano solo quattro nemici, sai cosa fare? Gas in movimento, nuova zona sicura individuata, arriva il gas! Gas in arrivo, spostamento della zona sicura! Merda, sono posto giusto! Speranza Grazie a tutti. Grazie a tutti.